Eccellenza, una santa messa particolarmente emozionante, celebrata per la professione perpetua di Sor Maria Fabiola, suora di clausura. La vogliamo commentare? Allora, abbiamo vissuto un bel momento di fede, di speranza e di amore. Una giovane donna ha detto un sì nuziale al Signore, consacrandosi per sempre dentro il nostro Carmelo. Riconosciamo in questo evento un segno della bontà di Dio per noi, per la nostra gente, per la nostra Chiesa. E riconosciamo un segno di speranza per il mondo, vedere una giovane, una bella ragazza che si consegna totalmente a Dio, è un segno di grande dedizione al Signore e di speranza. Sono certo che questa decisione, che questo sì, sarà fecondo per la sua famiglia, sarà fecondo per questo monastero, sarà fecondo per la nostra Chiesa e per l'umanità intera. Ringrazio tutti quelli che hanno contribuito alla sua formazione e sono certo che Fabiola, con la sua preghiera e la sua testimonianza, renderà più bella, più ricca, più nuziale la nostra Chiesa. Un caro saluto a tutti. Grazie. Grazie.